La partita più attesa era in programma naturalmente al 20 godi tra Verona e Juventus. Per una agitazione dei colleghi della serie di Venezia non siamo in grado di proporvi il servizio sulla partita. In ogni caso vi facciamo vedere i due gol decisivi. Dovrebbero partire le immagini tra poco. Il Verona ha interpretato alla grande una partita che l'ha vista costantemente in avanti. Vediamo che al diciottesimo del secondo tempo è Fanna che scaraventa in mezzo. Sbaglia il tempo dell'uscita Tacconi e del piccolo Galderisi che segna di testa per l'esultanza dei tifosi veronesi. Gol dunque di confezione tutta ex Juventina. E qui siamo al raddoppio. Fa tutto Elkier che va via sulla sinistra Pioli, resiste a un tentativo di fallo dell'avversario, converge al centro, salta un altro difensore Juventino, fa secco Tacconi per il 2-0. Tutto questo al trentottesimo del secondo tempo. Verona dunque che fa sul serio, molto sul serio.